Oh oh, oh oh, è tutto vero, è tutto vero, il Milan è riuscito a battere il Paris Saint-Germain. Ottima prestazione. Direi che questa partita è stata veramente giocata alla grande e mi è piaciuto moltissimo il rientro di Loftus-Cic, devastante, con tutti i palloni che ha recuperato sia col fisico e con la tecnica che ha e ha giocato, abbiamo attaccato un sacco di volte grazie a lui, devastante Leao, una prestazione veramente meglio di così non poteva fare, è riuscito a dimostrare quello che può essere e speriamo che continui così. Ha fatto una prestazione veramente dal terzino a tutta la fascia, nella fase difensiva lui faceva il quinto difensore, faceva il terzino aggiunto ed è stata un'ottima mossa, poi la ripartenza era grande e via. Che dire, Giroud è sempre Giroud, quindi secondo me i migliori in campo oggi sono stati Loftus-Cic, Leao e Giroud. Nota dolente diciamo un po' la prestazione di Pulisic, non mi è piaciuto, non era molto in partita, faceva fatica a tenere i palloni e non era molto incisivo, ma speriamo, però diciamo tutto il resto della squadra ha giocato molto bene, molto bene anche Calabria, è riuscito a contenere un po' di volte diciamo le giocate di Mbappé in anticipo e comunque ha fatto il suo, dai. Comunque mi raccomando, vediamo di continuare così. Ciao ragazzi!